Qui sembra che questa cosa sia un interesse personale mio o della Viola, a parte che io, Ciccio Franco e i tifosi che si sbattono per questa vicenda, sembra che non freghi niente a nessuno di questa cosa. Il ragionamento è molto semplice, non è una cosa che deve interessare gli addetti ai lavori, è un bene della città e noi abbiamo già giocato intero con la prima, verosimilmente giocheremo intero con la seconda. La città non può permettersi di perdere ancora tempo, soldi per sciatteria della burocrazia. Siamo veramente alle ultime curve, però queste ultime curve vanno fatte, perché altrimenti l'emozione di questa sera, immaginate stasera al Pentimele, immaginate cosa sarebbe stata.